Ciao a tutti, sono Anna e sono qui a raccontarvi quello che è stato il mio percorso al liceo a Frezzi e a Vangela di Foligno e dove mi ha portato questo percorso. Io momentaneamente sono a Venezia e studio all'Università Ca' Foscari di Venezia, studio lingue, civiltà e scienze del linguaggio, curriculum letterario-culturale e il mio percorso al liceo comunque ha avuto la sua rilevanza e la sua importanza. Come lingue al liceo ho studiato inglese e francesi come lingue obbligatorie e come terza lingua ho scelto lo spagnolo. Questa scelta è stata fatta su base di un consiglio di un mio caro amico che mi ha appunto detto che innanzitutto lo spagnolo è la terza lingua più parlata al mondo e successivamente che nei territori ispano-americani e nei territori spagnoli l'inglese non è molto parlato come magari in altri stati europei. Per cui su questa convinzione ho scelto di intraprendere lo studio dello spagnolo e sono veramente contenta di averlo fatto. Al di là comunque della mia scelta assolutamente ben voluta, con il senno di poi e bene che tutto l'accetto, il liceo è una grandissima opportunità di crescita e di apprendimento. È di crescita perché personalmente ho partecipato a moltissime attività offerte dal liceo e che mi hanno formato, mi hanno cresciuto, sono diventata la persona che sono grazie anche a quelle attività e dal punto di vista delle competenze naturalmente la capacità di spostarsi da una letteratura all'altra apre la mente e permette lo sviluppo di moltissime connessioni, diciamo così, da una lingua all'altra. Dal punto di vista delle conoscenze comunque la formazione è molto molto alta a livello di livello appunto perché i professori sono molto molto buoni, sono molto preparati e riescono a trasmettere le conoscenze e le competenze perché amano quello che fanno e questo si vede. E poi naturalmente è una scuola molto 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 valida, esci dal liceo e le lingue le sai parlare sai comunicare con le persone straniere qualunque se siano. Per cui io personalmente sono molto 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 moltissimo soddisfatta di quello che è stato il mio percorso e dove mi porterà vedremo che perché le lingue sono diciamo il ponte di comunicazione del futuro, lo sono state nel passato ma sempre di più oggi e nel futuro, per cui sono contenta di essere entrata nello studio di queste lingue e vedremo cosa prevede per noi il futuro. È stato un piacere, bocca al lupo per tutto e spero di esservi state d'aiuto. Ciao ciao! Un saluto da Venezia!